Qualche nube, ma comunque niente ci impedisce di fare finalmente la prova in volo del nostro Mavic Air 2. Sigla! Eccolo qua, amici dell'Arc, qui. L'abbiamo già visto qui nell'unboxing settimana scorsa, pronto per essere reso operativo. Quindi, come prima cosa, lo dico a vantaggio di chi non ha mai utilizzato un drone, ovviamente la maggior parte di voi lo saprà, ma comunque la prima cosa da fare è montare correttamente le eliche, può sembrare una banalità, ma in realtà, soprattutto all'inizio, uno degli errori più comuni è quello di montare le eliche in qualche modo in maniera sbagliata. Quindi vediamo subito come montare correttamente le eliche. Ecco le nostre eliche, naturalmente ce ne vengono date 4 più 2 di ricambio. Come si montano le eliche, se non lo sapete ve lo dico, vedete che sul Mavic Air, come su altri droni del DJI, c'è un'ala disegnata con dei segnetti bianchi e una senza segnetti bianchi. Ovviamente dovremmo far corrispondere le eliche con i segnetti bianchi, spero, lo vedete bene, qui, andranno messe qua. Le eliche invece senza segnetto bianco, tipo questa, andranno messe qua. Quindi, niente di più semplice, cominciamo a montare quindi le eliche nel verso giusto. Ecco fatto. Eccoci qua, si è alzato un po' di vento, speriamo non dia fastidio. Ecco qua le eliche montate, le controlliamo solo per, naturalmente è nuovo, ma insomma solo per dovere di cronaca, che girino regolarmente. Vedete che il vento le fa girare bene. Il gimbal si rimuove semplicemente, diciamo, dando una piccola dotazione in questo senso, quindi molto semplice, devo dire. Ricordiamoci, è importante di accendere il drone solo dopo aver rimosso il gimbal, ok? Sembrano banalità, ma vi assicuro che anche a me un paio di volte è successo. Niente di grave, ma potrebbe danneggiare il meccanismo. Quindi rimuoviamo per primo gimbal. Adesso possiamo accendere il radiocomando. Eccolo qua, il radiocomando, l'abbiamo già visto, è inutile approfondirlo più di tanto. I joystick, chiamiamoli come vogliamo, sono qui dentro, quindi si rimuovono molto facilmente, molto più facilmente di quanto non succedesse con altri radiocomandi, soprattutto ad esempio quello dell'Oxia Mi. Io tutte le volte impazzisco, questi vengono via veramente facilmente. Sono piccole cose, ma aiutano. Si alza, si solleva, questo qui che è il luogo dove poter ospitare il nostro telefonino, il nostro cellulare. E, altra cosa molto interessante, che ha fatto il DJI, vedete qua, l'attacco in questo caso, avendo un iPhone e un Lightning, naturalmente nella scatta trovate gli attacchi, i micro USB, eccetera. Quindi adesso mettiamo il telefonino, ci predisponiamo ad accendere l'applicazione e vediamo immediatamente le prime impressioni dell'applicazione DJI Fly, ok? Accendiamo il nostro drone, cioè si tiene premuto fino a che non si vede che si attiva. Lo stesso di casipi di radiocomando. Accendiamo adesso il radiocomando, anche questo si tiene premuto. Il drone è acceso, il radiocomando adesso si sincronizzerà col drone. L'applicazione DJI Fly, la vedremo con calma dopo. Ci avvisa che la scheda SSD non è presente, ma una cosa veramente interessante, devo dire che DJI ha fatto benissimo, su questo drone c'è una memoria interna, mi pari, di 8 giga. Questo è fantastico. Ma facciamo decolare il drone e vediamo come si comporta in volo. Eccolo qua, pronto al decollo. E ovviamente, è inutile dirlo, siamo nel regno DJI. La DJI ha uno standard al quale ci è abituato. Ormai, eccolo qua, a favore, come dire, di telecamera. Vedete già da queste prime immagini l'overing è perfetto. Sta suonando perché chiaramente sta sentendo, come dire, la presenza della telecamera, quindi. Vediamo adesso rapidamente la risposta ai primi comandi. Purtroppo abbiamo poco tempo perché mi segnala la batteria a scarica. Non so perché, perché ho provato a caricarla. Vabbè, vediamo la risposta del drone. E poi, mi dispiace, mi scende neanche, ma oggi non potremmo fare molto di più. Vediamo l'overing. Vediamo lo spostamento laterale e come si ferma in caso di spostamento laterale. Quindi, se perde di quota, ma evidentemente, vedete bene che è perfettamente stabile. Vabbè, ma sono cose queste a cui DJI ci ha abituato. Dove a dire che, sostanzialmente, sale e scende in maniera molto, molto efficiente. E questo, sicuramente, è un plus rispetto al Mavic Mini, che è molto, molto più lento, come giusto che sia. E vediamo la risposta ai comandi in rotazione. È un drone fantastico, amici di un anche. Proviamo a avvicinarci a un ostacolo e vediamo se i sensori, vedete, suona. Ovviamente, funziona. Non ci stupiamo di questo. È un primo contatto, perdonatemi. Tra l'altro, mi sta dando dei segnali di errore sulla batteria e quindi devo assolutamente farlo atterrare. Vedete che non vuole più volare. Facciamo un'ultima dotazione e poi facciamo atterrare il nostro drone perché, a questo punto, capite bene che è impossibile fare altri tipi di sperimenti. ma il primo contatto è quello che ci aspettavamo da un DJI. Cioè, un drone, penso che, perfetto su quelli che sono i comandi e quella è la disposta ai comandi. Facciamo atterrare qua, su un nostro tavolo. Facciamo un landing. E fermiamoci qua per oggi perché, purtroppo, oltre non possiamo fare. Il tempo si sta rannuvolando velocemente, quindi arriviamo alle conclusioni il più rapidamente possibile cercando, in questo primo contatto in volo con il nostro Mavic Air 2, di dare le prime informazioni. Cosa mi è piaciuto? Primo, sembra banale, ma la memoria interna è fantastico. Bello avere 8 giga, se ricordo bene, di memoria disponibile, non è una banalità. Secondo punto, vola, vola benissimo. Veramente, niente da dire, è disposta ai comandi eccellente. Abbiamo fatto anche la dotazione più o meno veloce, più o meno lenta. Comandi, controllo di volo, qualità del volo, top. Terzo pro, le riprese. Sul telefonino le vedremo, ma sicuramente la qualità delle riprese è alta. Ho girato in 4K a 30 frame al secondo, in 4K a 60 frame al secondo. Ne vediamo dopo nel video e vi farete voi le vostre considerazioni. In 4K a 60 frame al secondo, in 5K a 60 frame al secondo, in 5K a 60 frame al secondo. Grazie a tutti Non ho ancora aggiornato il firmware che ho visto essere disponibile Tre contro, ci sono ovviamente anche i contro, sono soltanto tre e per me non fondamentali Uno solo, il più importante di tutti, il peso Ritorno lì, 570 grammi è una vera sciocchezza Per 70 grammi essere costretti a non avere un drone che un domani non siano pencategori Il primo contro è il peso 70 grammi in meno e sarebbe stata la perfezione assoluta Secondo contro La risposta al vento non mi è sembrato ottimale Mi riservo naturalmente di vederlo meglio Ma quando si sono alzate le furate di vento ho notato Che lui ci metteva forse un po' più del tempo dovuto ad assestarsi Quindi per il momento per me questo è un contro Da verificare ma secondo me c'è Terzo e ultimo contro Non c'è Non c'è Non l'ho trovato Non l'ho trovato Per il resto secondo me è veramente un drone fantastico Non so se si vede Non so se lo vedete Sta venendo fuori il finimondo Primo contatto col Mavic Air 2 Contatto positivo al 100% Vogliamo dire l'80% Non lo so Però sicuramente un grande drone Un drone che come tutti aspettavamo Sicuramente cambierà un po' le regole del gioco Vola benissimo Fa sicuramente il grande ripreso Non abbiamo provato funzioni particolari Lo faremo la prossima volta Ma il drone è un grande drone Non c'è niente da fare DJI che se ne dica Fa dei droni veramente eccezionali Sto aspettando a Sbanzino 2 Non è ancora arrivato Speriamo arrivi Perché ormai sono tre mesi No Quattro mesi che l'ho ordinato Comunque Arrivederà Vi ringrazio Vi ringrazio Più di 2000 iscritti al canale Sono tantissimi Un traguardo importantissimo Dovevo fare un video speciale Non ce l'ho fatta Lo farò la prossima settimana Speciale 2000 iscritti Vi ringrazio Iscrivetevi al canale Attivate la campanellina qui sotto Se volete rimanere sempre aggiornati Ci vediamo la prossima settimana Ciao da DonArc Ciao da DonArc